Il quarto tempo, la biocultura è un contenitore, è il contenitore di tutte le iniziative sociali che noi facciamo in occasione dei grandi eventi, ma anche un modo per farci riconoscere e per noi riconoscere quello che fanno i nostri club, questo lo voglio sottolineare, perché non siamo noi quelli che si occupano di sociale, ma sono soprattutto le centinaia di club che quotidianamente per noi è facile, abbiamo la vetrina, abbiamo i riflettori accesi e in quel momento abbiamo un riconoscimento di questo pezzo importante che noi coltiviamo. Però voglio sottolineare che questo è anche un modo per dire grazie ai nostri club, a tanta gente che in forma di volontariato si cura delle persone e si cura di cose che hanno un valore immenso e che mi ripeto va fortemente oltre lo sport.